Sì, vabbè, ciao Maria, adesso anche le divisioni tra polinomi a due lettere dobbiamo imparare, ma io esco. No, dai, aspetta, impariamole insieme. Hey là, ciao Big Genius, tranquillo, qui al solito, al tuo fianco c'è SuperMath, il tuo supereroe scientifico sempre a portata di click, pronto a darti una mano come al solito sia in matematica che in fisica. E oggi, a grandissima richiesta, andiamo a vedere le divisioni tra polinomi a coefficienti letterali. O con due lettere, o a più variabili, insomma, definiscili come vuoi, ma sostanzialmente ci concentreremo su quelle a due lettere, perché poi da lì in poi il gioco è tecnicamente lo stesso. Come puoi vedere qui ho preparato un polinomio in A e B e un altro polinomio in A e B, dividendo e divisore. Adesso ci occuperemo di fare la divisione in colonna, ma come puoi vedere il divisore è di primo grado sia rispetto ad H che rispetto a B, e quindi di conseguenza tu potresti fare anche questa divisione con il metodo di zio Ruffa Ruffini. Esatto, ma per ora concentriamoci sulla divisione in colonna, come dicevo. Il polinomio prima di tutto però bisogna capire, ma lo devo leggere in A o lo devo leggere in B o lo devo leggere in tutte e due? Oh madonna mia che confusione! Vabbè, tranquillo, sostanzialmente l'idea è molto semplice. O lo leggi nella variabile A o lo leggi nella variabile B, c'era anche C e scegli se leggerlo anche nella variabile C o nella variabile X, G, K, L, M, N, O. Fai tu, ma sostanzialmente la storia non cambia. Sempre una variabile di riferimento devi andare a prendere e tutte le altre saranno dei coefficienti letterali parametrici che vanno a fare da contorno al polinomio. Quindi di conseguenza, ad esempio, noi per ora lo leggeremo tranquillo sia in A che in B. Ma per ora ci appuntiamo qui da una parte che andiamo a leggerlo secondo la variabile A. Quindi ti ricordo che questo polinomio ovviamente deve essere ordinato e completo. Ti ricordo che qualora non lo fosse un polinomio è sempre ordinabile e completabile senza problemi. E questo in generale deve essere ordinato. Questo non è vincolato ad essere completo. Ovviamente adesso ordinato e completo ho sempre rispetto ad una lettera di riferimento. Quindi nel nostro caso, in questo momento, rispetto alla variabile A. Giusto? Questo che cosa vuol dire? Quindi vuol dire che io avrò A alla seconda, meno 2BA, se lo vogliamo riscrivere così adesso ti spiego perché questo cambio, meno 3B alla seconda. E poi prepariamo la divisione in colonna perché ho detto che voglio fare la divisione in colonna. variabile A, quindi A è il termine di primo grado e B è il termine noto perché non contiene la lettera A. Spero di essere stato chiaro fin qui. Ovviamente come al solito se no lascia un commento qui sotto e cerchiamo di risponderci il prima possibile ovviamente. Sì lo so, in questo periodo sono un po' lento a rispondere ai commenti ma tutto andrà per il meglio durante l'estate. Me lo sento. Quindi di conseguenza che cosa succede? Succede una cosa molto semplice. Questo adesso è pronto. Questo te l'ho scritto così perché se vuoi andare a prendere un colore potresti circondare che tutto questo ad esempio è il coefficiente della A. Per quale motivazione questo è importante? Beh perché adesso devi fare il primo diviso il primo come abbiamo studiato nella divisione in colonna. Eh? Non l'hai visto? Tranquillo, qui c'è una video lezione pronta a portata di click per te e puoi studiare e ripassare tutto il contrario di tutto della divisione in colonna della divisibilità tra polinomi. Che male non fa mai, diciamocelo chiaramente. Quindi il primo diviso il primo che fa esattamente A, A per A che fa A alla seconda, cambiato di segno, meno A alla seconda. E poi successivamente questo però lo devi moltiplicare per tutti, quindi lo moltiplicherai anche per B, però questo farà meno B A. Questo che cosa vuol dire? Ovviamente se volevi tenere le lettere in ordine alfabetico, fallo tranquillamente, non è che adesso supermatte ha fatto così e tu devi fare così. Ovviamente trova il tuo metodo, era solo per sottolineare chi è il coefficiente, cosa che ci tornerà utile fra pochi minuti quando faremo l'altra variabile, questa volta magari col metodo di Ruffini. Così ripassiamo tutto, no? Dai, eh? Quindi di conseguenza che cosa facciamo? Facciamo linea, andiamo a calcolare il resto fino a questo momento, questi sono due monomi perfettamente simili e dovrebbe venire meno 3 B A. Adesso che facciamo? Sempre questo invece lo portiamo giù dritto per dritto perché qui è come se ci fosse più zero, quindi di conseguenza meno 3 B A alla seconda. Adesso il primo diviso il primo, di nuovo il gioco ricomincia, come ti ho spiegato in quella video lezione che trovi lì al click sulla I. Quindi meno 3 B A diviso A che fa esattamente meno 3 B e poi ricominciamo il gioco invece della prova. Questo per questo ho cambiato disegno, quindi più 3 B A e vado a tirare una linea, ma ovviamente devo moltiplicare anche questo. Meno 3 B alla seconda che diventa più 3 B alla seconda. Questo va via monomi simili opposti. Questo va via monomi simili opposti che vuol dire che la divisione è sicuramente finita, che qui il resto non c'è e che il resto è sicuramente uguale a zero e che il quotiente è venuto di nuovo un polinomio in A e B ed è venuto per l'esattezza in A meno 3 B. Questo che vuol dire che se tu provi a rimoltiplicare questo diviso per questo, scusami, e riottieni esattamente questo. Questa è la divisione tra i due polinomi a coefficienti letterali A variabile incognita B coefficiente letterale e in particolar modo possiamo dire che questo è un divisore esatto di questo e che quindi questo polinomio è perfettamente scomponibile come altro colore alla mano se lo trovo, questo per questo. Ok? Tutto chiaro? Ti torna fino a qui? Perfetto. Questo che vuol dire che devi poi ripassare tutte le scomposizioni tra polinomi. playlist completa con divisione, divisibilità, scomposizioni, tanti tanti video, addirittura più di 10 anche con esercitazioni svolte pronte a darti una mano. Questo dovrebbe essere tutto chiaro quindi io direi passiamo a fare quello con la variabile in B. Ehi là Big Genius, non mi abbandonare che ho dimenticato di dirti una cosa relativamente importante. Ma chi caspita ti dice chi è la variabile da prendere come riferimento? Beh la risposta è nessuno o forse l'esercizio. Se te lo dice l'esercizio risolvi la divisione con la variabile in A, in B, in X, ok? Sai cosa devi fare, sai come lo devi andare a prendere. Se vieni all'interno di un altro esercizio più complesso o non è stato specificato tu devi prendere una variabile di riferimento e a quel punto magari la deciderai tu o in base all'esercizio più complesso che stai facendo o in base a come te pare a te. Tradotto molto semplicemente. Quindi di conseguenza questo che vuol dire? Ordinato e completo ancora una volta è ordinato. Ma stavolta il tutto sarà fatto rispetto alla variabile B. Questo che cosa significa? Quindi che sarà meno 3B alla seconda, meno 2AB. In questo caso te lo lascio così perché meno 2A sarà il coefficiente della B. Quindi termini di secondo grado in B, termini di primo grado in B e poi successivamente più A alla seconda. Il tutto che andrà a dividere abbiamo detto B, quindi B più A. Perché? Perché B sarà il coefficiente del termine, sarà il termine di primo grado con coefficiente pari a 1. Quindi perfetto, wow, dai, per fare ruffini. E questo tecnicamente sarà il termine noto. Oh, il termine noto sarà esattamente tutto A. Adesso lo vediamo meglio applicando il mio amico Ruffa Ruffini. Ma cosa? Non ti ricordi bene neanche Ruffa Ruffini? Uffi però, qui puoi trovare tutto il contrario di tutto. Tranquillo, c'è Ruffa Ruffini in tutte le salse. E mi raccomando, può essere utile tecnicamente andare a rivedere quella lezione per vedere un po' di esercizi svolti un po' più semplici, non a coefficienti letterali. Di solito prepariamo quella che è una bellissima porta da rugby una volta che siamo sicuri che la divisione si può fare con Ruffini. Andiamo a mettere i coefficienti qui del dividendo e qui andiamo a mettere il termine noto del divisore cambiato di segno. Quindi in questo caso qui ci andiamo a mettere meno A. Come ti dicevo prima, tutto il termine noto ha cambiato di segno meno A. Successivamente il coefficiente di B alla seconda è meno 3. Il coefficiente di B però è tutto meno 2A, mi raccomando. Quindi meno 2A con tanto di letterina. A alla seconda chi è? Sì, ok che è la lettera, ma compare B? No, B è di grado 0, quindi quello è il termine noto rispetto a B. Questo che significa che questa è A alla seconda. Questo successivamente lo metti di qua, al di là della sbarra, perché è il termine noto come ho spiegato nell'ambito di Ruffini. Questo lo prendi e lo tiri giù dritto per dritto meno 3. Qui c'è una somma in colonna con 0. Meno 3 per meno A fa più 3A. Più 3A meno 2A fa A. A per meno A fa meno A alla seconda. E questo viene 0. Questo risultato che trovi qui è perfettamente di nuovo il resto, quindi avremo ancora una volta un resto pari a 0. E poi successivamente, che cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere il quotiente. Cambio un attimo colore. Questo era un polinomio di secondo grado in B. Ruffini abbassa sempre di un grado, quindi mi aspetto un polinomio di primo grado in B. Questo che vuol dire meno 3B sicuro. E poi mi aspetto semplicemente più A. E questo dovrebbe essere il tuo quotiente. Ora qualcuno mi potrebbe dire Matteo, ma il resto è 0, il quotiente è meno 3B più A. Ma è lo stesso risultato di prima. Esatto, campione. Questa è una grande osservazione. In realtà la domanda potrebbe essere Ma quindi succede sempre così se lo faccio rispetto ad una variabile piuttosto che all'altra? La risposta è essenzialmente sì, può succedere, ma non è detto che succeda sempre. In questo caso succede perché questo polinomio e questo polinomio sono perfettamente simmetrici fra di loro. Ovvero se ci fai caso A alla seconda, B alla seconda, AB. Quindi è un polinomio di secondo grado omogeneo, direbbero quelli di primo, Quelli molto bravi, 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 quindi non io per capirci. A alla seconda, secondo grado, secondo grado, secondo grado, primo grado, primo grado. Quindi omogeneo di primo grado, omogeneo di secondo grado. Perfettamente a specchio l'uno rispetto all'altro. Quindi di conseguenza è normale che succeda questa situazione qui. Bene, io penso di averti detto davvero tutto il contrario di tutto. Se vuoi ripassare tecnicamente il teorema del resto, il teorema di Ruffini che ti può servire lo trovi qui. La playlist con tutte le altre esercitazioni sulle scomposizioni e divisioni la trovi qui. Iscriviti al canale perché la nostra avventura è solamente all'inizio. Ciao campione, non mollare mai!